E allora, di ringraziare tutti i nostri ospiti e di salutarvi una piccola nota di merito, perché infatti dobbiamo appuntare una medaglia in petto anche io, anzi non l'appunto io, l'appuntiamo a lei, perché il premio internazionale di giornalismo di Ischia, che si tiene a Ischia, che ha premiato perfino Walter Cronkite, uno dei più grandi giornalisti del mondo, ha deciso di premiare con un premio speciale... Come conduzione per un programma di infotainment, è un premio che va tutta la nostra squadra, naturalmente. Grazie, 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 grazie. Ha detto è solo mio, l'obiettivo. Bravo, onoratissima, grazie. La linea è una parola passata alla nostra Eleonora Daniele, con Storie vere, noi ci vediamo... Lunedì! Se lo vogliate voi. Arrivederci. Anche con te. Mannaggia.